Musica Bentornati ad una nuova puntata di Avvocati Rispondono. In molti ci avete scritto per problemi con i contratti d'affitto. Abbiamo girato le domande all'Avvocato Bortolotti. Uno dei contratti di più frequente presentazione e una delle situazioni più comuni di occupazione di un immobile è senz'altro quello della locazione abitativa, comunemente detta affitto. La locazione abitativa è un contratto che più delle volte, interessando una grandissima quantità di persone e di famiglie, viene forse stipulato con, non dico con leggerezza, ma senza forse pensare la dovuta attenzione a tutte quelle che sono le parti, le clausole contrattuali che in definitiva possono rivelarsi anche molto importanti nel corso della vita del contratto di locazione stesso. Vediamo con la consueta praticità e rapidità quelli che sono gli aspetti più importanti e sui quali occorre focalizzare maggiormente l'attenzione, riferimento a questa modalità contrattuale. Focalizziamo l'attenzione su quella che è la modalità di locazione più comune, più conosciuta, che è quella cosiddetta a canone libero, la famosa 4 più 4, perché ricordiamo che esistono vari tipi di locazione abitativa, quella a canone concordato che si fa attraverso gli accordi fra le categorie di inquilini e proprietari, che è un contratto particolare, esistono poi le locazioni chiamate totalmente libere, libere da qualsiasi vincolo particolare di legge, che sono quelle che riguardano gli immobili affittati o locati per ragioni turistiche o le pertinenze degli immobili come i box, le cantine, i posti auto. Ma come detto, concentriamoci sulla locazione a canone libero che riguarda la maggior parte delle persone. Allora, la locazione a canone libero presenta soltanto tre tipi di vincoli che occorre tenere presenti, quelli riguardo la durata minima del contratto, quelli riguardo le modalità di rinnovazione e le modalità di recesso. Per il resto, le parti sono libere di concordare questo contratto di locazione come meglio credono. Per quanto riguarda la durata minima, ricordiamo che la legge, la 431 del 1998, che regola la materia, impone una durata non inferiore ai 4 anni, che poi sono rinnovabili automaticamente, salvo la disdetta che il proprietario deve dare con le modalità e nei casi tassativamente previsti dalla legge all'articolo 3. Ricordiamo quelli più importanti, ossia se il proprietario alla scadenza dei primi 4 anni intende abitare personalmente o con la sua famiglia l'immobile, allora in quel caso può dare la disdetta nei tempi previsti dalla legge all'inquilino, ossia almeno sei mesi prima della scadenza dei primi 4 anni. Se vuole vendere l'immobile e non ha altri immobili di proprietà nel comune, salvo quello dove lui abita con la sua famiglia, e se invece l'immobile deve essere totalmente ricostruito o ristrutturato. Solo in questi tassativi casi, al termine dei primi 4 anni, il proprietario ha il diritto di recedere dal contratto di locazione. Ricordiamo che invece il conduttore, ossia l'inquilino, ha il diritto di recedere in ogni momento per gravi motivi, dando un preavviso di almeno sei mesi, ossia dovrà comunque pagare i sei mesi di preavviso che concede al proprietario. Dicevamo poi per quanto riguarda le modalità di rinnovazione, molto importante è questo, perché quando scadono gli 8 anni di contratto, se il proprietario o l'inquilino vorranno rinnovare il contratto con canone differenti, quindi con termini differenti, con modalità differenti, dovranno entro i sei mesi prima della scadenza dei secondi 4 anni, quindi degli 8 anni, dare una specifica comunicazione l'uno all'altro. L'altra parte che la riceve dovrà rispondere entro 60 giorni, se non lo farà il contratto si intenderà risolto. Allo stesso modo, attenzione perché se nessuno dei due dice nulla, allora il contratto si intenderà rinnovato per un ugual periodo, quindi 4 più 4, alle stesse condizioni precedenti. Un altro aspetto molto importante che occorre tenere presente è che non esistono i contratti di locazione fatti a voce, non esistono contratti di locazione fatti con una stretta di mano o con un foglietto volante. La legge impone la forma scritta appena di nullità e la registrazione entro 30 giorni dalla firma del contratto a fini fiscali. Registrazione cosa vuol dire? Andare all'agenzia delle entrate e dire che voi siete in affitto e che dovete appunto pagare un'imposta di registro. Questo cosa vuol dire? Che se noi non affitteremo, locheremo il nostro immobile con un contratto scritto, avremo dei grossi problemi in sede di eventuale sfratto, perché non riusciremo a provare l'esistenza del contratto di locazione e soprattutto avremo delle ripercussioni di carattere fiscale perché l'agenzia delle entrate in maniera retroattiva ci verrà a chiedere quello che non abbiamo pagato non registrando il contratto. Un'ultima attenzione, fare molta attenzione a quando si visita l'immobile, prima di sottoscrivere il contratto di locazione e mi rivolgo soprattutto ai conduttori, cioè agli inquilini, controllare che sia tutto a posto, che gli impianti siano a posto, siano funzionanti, fare un verbale elencando tutti i mobili elettrodomestici che si trovano nell'appartamento, perché un domani, visto che tutti i contratti di locazione riportano la formula cosiddetta visto e piaciuto, non si potrà accampare la scusa che c'è qualcosa che non funziona nell'appartamento o non è di nostro gradimento e smettere di pagare il canone, perché questo sarà sicuramente passibile di procedura di sfratto. Ricordiamo infatti che per i contratti di locazione abitativa basta non pagare un solo canone perché il proprietario possa procedere con lo sfratto per morosità. Il bonus Renzi del 2018. Quali saranno le nuove regole? Noi abbiamo girato la domanda all'Avvocato Pollastro. Buona serata a tutti. Stasera voglio tentare di dare qualche risposta, fare un po' di chiarezza su un istituto che è ormai stato confermato anche per il nuovo anno 2018. Sto parlando del bono fiscale di 80 euro che è passato un po', come dire nel linguaggio comune, come il bono fiscale Renzi. Allora sappiamo che cos'è, cioè in busta pagna il lavoratore che ha alcune fasce di reddito che poi dirò, percepisce una somma pari a 80 euro che su base annuale vuol dire 960 euro. Su base annuale. Prima cosa da chiarire, sul quale non riesco a capire per quale motivo, ma si è creata non poca confusione tra la gente. Non è una erogazione in più, cioè non è un bonus, una somma che viene data in più, ma è una somma che viene detratta dalle tasse, è una riduzione delle tasse. Il che vuol dire? Vuol dire due cose soprattutto. Primo, che non è un reddito e quindi non va su dichiarato, non va dentro agli aspetti fiscali, ma soprattutto il problema è che se uno non ha avuto un reddito tale da determinare tassazione, non ha diritto agli 80 euro. Perché, si dice, il suo reddito è incapiente, cioè non è sufficiente per consentire il rimborso. Allora, la soglia al di sotto della quale il lavoratore non ha diritto a questo bonus sono gli 8 mila euro su base annuale, ma come? Uno ha meno, ha poco e proprio a lui gli viene data il bonus. È così il meccanismo. L'impalcatura della norma non è una erogazione in più, ma è una riduzione e ribanisco di tasse. Ho parlato della soglia minima, c'è anche una soglia massima, che era, ricordiamo, 24 mila euro, che nel 2018 diventa 24 mila 600 euro, su base annua. Sappiamo anche, per la precisione, non voglio dire cose inesatte, che uno ha diritto anche, se il suo reddito va dai 24 mila 600 euro, ai 26 mila 600 euro, cioè la soglia finale è 26 mila 600, ma da 24 a 26 c'è una progressiva riduzione. In buona sostanza, se uno ha 25 mila 600 euro, avrà diritto a metà del, invece che 80 euro, a 40 euro mesi. A questo punto che cosa succede? Succedono alcune vicende, che nel corso dell'anno il lavoratore è partito con un reddito basso, e magari poi questo reddito è aumentato, e quindi alla fine dell'anno presume, o ha raggiunto, è superato la soglia. Oppure può succedere anche l'incontrario, che uno comincia l'anno, per qualche mese, si trova in busta paga gli 80 euro, dopodiché perde il posto di lavoro, non ha più il posto di lavoro, non lavora più, e alla fine dell'anno è sotto gli 8 mila. Che cosa succede? Vuol dire che il lavoratore è fuori dalle soglie, e quindi se ha percepito nel frattempo delle rate, dei ratei di bonus, l'Inps glieli chiede indietro. Non è possibile, è così, glieli chiede indietro. Il che vuol dire che se uno si accorge che non ha più diritto al bonus, perché ha superato la soglia, conviene informare il proprio datore di lavoro, che in quel momento opera come sostituto l'imposta, affinché non venga più fatta l'operazione dell'erogazione del bonus, perché il lavoratore alla fine rischia di prendere questi soldi e poi doverli restituire. Altra domanda che mi è posta ripetutamente, assolutamente, se uno ha più di un rapporto di lavoro, magari due part time o più, in questo caso il lavoratore deve optare, deve indicare in linea di massima verso il datore di lavoro sostituto l'imposto principale per informare che uno dei due faccia l'operazione e che invece l'altra persona, l'altro datore di lavoro, non faccia l'erogazione degli 80 euro. Se no, ci troviamo con due erogazioni di 80 euro e poi l'Inps richiede indietro. L'ultimo elemento che voglio sottolineare molto sinteticamente, per avere diritto a questo bonus, come sappiamo, non occorre fare domanda, opera direttamente il sostituto d'imposta che è il datore di lavoro, nel momento stesso in cui dà la vostra pagna. Ma se uno non ha il sostituto d'imposta, e sto parlando in modo particolare dei collaboratori domestici, colf, in questo caso il datore di lavoro non dà il certificato unico a fine anno, se lo dà comunque non è tenuto a darlo, in linea di massima non danno la certificazione unica a fine anno, per avere il diritto al bonus, la colf o il colf, deve fare lui la domanda, se no l'Inps non gliela erga. Grazie, buonasera. Eccoci giunti al termine di questa puntata, vi ricordo la nostra mail, avvocati rispondono, chiocciolaicomizio.it Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti.